Fiammiente arrivati! Fiammiente arrivati! Fiammiente arrivati! Ehi, ciao fratello! Ciao! Allora come andiamo? Abbiamo già preso un paio, sta andando bene dai! Grande! Ma ascolta me, se ti dico Ghost Park? Ghost Park? Stasera prenotiamo, posta 24, 4 giorni! Dai, non vedo l'ora! Non vedo l'ora! Fiammiente arrivati! Big Fish in arrivo! Non vedo l'ora! Non vedo l'ora! Non vedo l'ora! Non vedo l'ora! Benvenuti e bentornati sul canale TeamFS, signori! Ciao ragazzi! Ci siamo! Magico posto! Oggi vi abbiamo portato al Ghost Park! Sessione molto aspettata! Si! Tanto attesa! Da 5-6 mesi! Programmata a gennaio, inizio anno! Adesso siamo a metà maggio e siamo qui per una sessione di 4 giorni! Siamo arrivati decisamente organizzati direi, al 100%! Cioè non abbiamo sottovalutato la situazione ma abbiamo preso tutte le accortezze e abbiamo anche assorbito da voi tutti i consigli che ci avete dato e non abbiamo lasciato niente al caso! Tutto sotto controllo, tutto organizzato! Niente te l'ha lasciato! Adesso le canne sono in pesca perfettamente per la prima notte! Vediamo cosa... vediamo se il lago risponderà insomma la prima notte! Siamo arrivati tardino comunque! Sì sì siamo arrivati perché la posta da quello che ci avevano detto doveva essere occupata fino a metà pomeriggio così! Noi siamo arrivati quindi appunto metà pomeriggio e abbiamo trovato la posta libera! Quindi subito appena arrivati! Abbiamo subito sdiperato e fatto un po' di plumbing così per vedere distanze fondali insomma profondità e direi che abbiamo trovato all'apparenza dei buoni punti dita super incrociate e speriamo di vederci tra poco insomma! Adesso ultimi accorgimenti per il campo per la notte appunto che stiamo qua quattro giorni quindi una bella sessione lunga! Ci prepariamo per la cena e speriamo di vederci tra poco! Un bel pescione in camera big fish! Posta 24 signori ci siamo! Ghost Park Grazie! Grazie! Gli effetti del sole si vedono già sulle spalle di Andrea signori! Grazie! Ci siamo ragazzi! Terza partenza! Prima partenza alle quattro di notte! Seconda partenza alle sei e mezza! Terza partenza alle sette! due slamate tra cui la seconda partenza era un bel pesce slamato qua davanti sotto riva questo sembra un pesce un po' più piccolo meno combattivo però non sembra leggero leggero speriamo di portarlo a guadino perché adesso sulle altre due canne ho messo lo spinner è partita la terza canna quindi sono partite tutte e tre le canne nel terzo spot tutte nell'arco di 3-4 ore tutti e tre gli spot azzeccati buono era la risposta che voleva eeeh 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 in the net in the net prima carpa nel materassino del ghost park una bella reginona bella tamugna 13 chiletti bel pesce, bel pesce a 100 metri 101 per esattezza non ci rimane che regolare la canna e sperare in un bel big bilanciato del 15 ananas andiamo subito in profondità tutta roba yes 8 e un quarto della mattina il lago sta in cominciando a riempirsi venerdì mattina la prima mattina qui al lago intanto sto provando a scurtare il lago nel miglior modo possibile insomma seguendo ogni piccolo segnale che mi manda oggi primo pomeriggio ho rilanciato le canne sono molto fiducioso dei nuovi punti anche se si tratta di solo un metro due metri in una canna di differenza dal punto di prima dal punto precedente tengo sempre dita incrociate sono ultra fiducioso e speriamo di vederci tra poco ragazzi un caldo torrido oggi abbiamo toccato i 29 gradi un bel caldo un bel caldo oggi pomeriggio abbiamo avuto un vento che spingeva leggermente dalle spalle abbiamo comunque lasciato le canne lì non le abbiamo mosse abbiamo fatto anche le 6 di venerdì pomeriggio Andrea si è appena andato a lavare io aspetto che torna e speriamo di vederci dal materassino il prima possibile l'angolo del disgusto bello e bustolente questo è il mio mix fruttato frutti gialli e mulberry questo qua è il mio mix speziato con l'aggiunta di red nubia una bomba signori una bomba è finito anzi dimenticavo ho aggiunto delle palline al mais un po' intere un po' sbriciolate per fare volume principalmente qui idem sempre per fare volume ho messo mais sempre palline al mais e delle palline al tonno per dare quel retro gusto pescioso ci siamo raga partenza per Luca la vogliamo nel guadino la vogliamo nel guadino sono le 11 di sera mezzanotte partita la canna sugli 80 metri di un po' sbriciolate oh finalmente ci siamo ragazzi un mostro del lago un gran pesce sono molto emozionato andiamo subito a rilasciarla in acqua sembrava più grande via e ci siamo appena rilanciato la canna signori doppietta questa la canna centrale però questa la seconda canna 10 minuti da quando rilanciato l'auto un tagliabissi si prende tutti i sette metri e mezzo che ci sono qua sotto signori distanza da pezzo distanza da big vediamo cosa ci tirerà fuori il signor luca del team fs ho visto è un mostro questo sembrava bella scura anche l'altra sembra la grog e vai che questo è 15 kg ci sta eh non sembra affatto più piccola lasciala lasciala attenzione ha visto una via di fuga signori ha visto una via di fuga è cattiva è cattiva portamela portamela a te vengo io vengo io vengo io vengo io getti secondo mostro leggermente più grande del primo il primo faceva 16 kg questo ne fa circa 17 mostro sempre stesso ceppo circa stesso posto cambia esca ma i dettagli ve li spiego dopo yes siiii ceratone ok diciamo che il mostro che aspettavamo ha comunque sempre un premio prima della buonanotte che gioia che gioia che gioia che gioia andiamo a rilascio sì che gioia Grazie a tutti. Bene ragazzi, la carpetta è uscita, peccato una slamata, ma incrocio le dita e confido in questo bellissimo sabato. Bene, adesso torno un po' a letto, ci vediamo dopo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, non abbiamo voluto lasciare niente al caso. Qui davanti due personal best. La rivincita, la rivincita. Eccola. Due mostri ragazzi. Abbiamo preso tutte le precauzioni del caso per fare una bellissima foto di rito. Adesso non ci rimane che mostrarvele. La mia 23, la sua 24. Prima pesce per me è sopra i 20 kg signori. La mia prima over. Master fish. Big mama. Esplode ragazzi. Due splendidi esemplari. Io ragazzi vado e rilascio. Grazie a tutti. Una bella supermercata. Una gioia. Una gioia. Yes. 24 volte si... Un mostro. Un mostro. Un mostro. Un mostro. Un mostro. Un mostro. ragazzi questa mattina risveglio col botto 24 23 e 24 chili prima della colazione proprio appena aperto gli occhi siamo stati con le canne che suonavano ora colazione e poi ci sediamo per fare due chiacchiere tanta roba carichissimi carichissimi ragazzi quale sveglia migliore quale sveglia migliore vi abbiamo portato 47 chili su materassino sono ultra gasato fierissimo perché comunque un punto cercato studiato una pastura organizzata già da una settimana e mezza quindi comunque c'è del lavoro dietro e come detto inizio video tutto organizzato tutto sotto controllo tutto niente lasciato al caso e infatti le soddisfazioni sono arrivata super pesci una bellissima sveglia super combattimento per andrea e poi partenza lenta e pesante sulla mia canna di destra e tutto sommato un risveglio appunto magico che ha dato il via a questo magico sabato mattina dopo questi super pescioni abbiamo fatto una abbondante colazione con relax annesso adesso sono poco prima di pranzo abbiamo appena rilanciato le canne abbiamo io ho cercato un altro punto cioè c'è da dire che stanotte mi sono partite tutte e tre le canne quindi molto soddisfatto anche su questo punto di vista quindi niente ho lanciato una canna diciamo in traiettoria dell'angolo che c'è qui dalla posta 24 da questa punta in angolo verso diciamo la posta 39 vediamo che è comunque un punto che non ho ancora pescato ho lanciato senza pasturare anche io ho seguito la teoria di luca infatti ho buttato una canna a 115 metri e ho pasturato a 100 una lunghezza in meno 112 metri e vediamo insomma pasturato col solito spot mix granaglie palline un po di tutto io ho innescatto una tiger con mezza bilanciata vediamo se esce il pezzo là in fondo a 115 metri qui la fiducia è alta anche io canna centrale quindi se parte quella corriamo siamo gasatissimi signori siamo gasatissimi con le altre due canne invece ho mantenuto più o meno sempre gli stessi spot mi sono spostato sempre su quella traiettoria sempre su quella linea ma una lunghezza diversa e tutto sommato sono comunque soddisfatto sicuramente dopo il calare del sole e tirerò tutte dove ho avuto le partenze stanotte appunto penso perché quello comunque è il tragitto penso che fanno le carte quando escono qui dal lancio sulla nostra sinistra quindi a me non mi rimane che dire abbiamo visto che comunque di notte c'è molto più movimento di giorno di giorno con sole auto non abbiamo neanche ancora fatto una partenza mi sembra quindi ho provato a mettere appunto quella canna più lontano per riuscire a tirare fuori qualcosa anche di giorno così riusciamo a fare anche un bel perciotto col sole alto e passarsi un po di pomeriggio io la maggior parte delle partenze le ho viste diciamo la fascia oraria calda è stata dalle tre mezza quattro di notte fino alle sette e mezza otto di mattina quelle quattro ore lì sono state davvero decisive infatti la prima notte ho avuto la partenza alle tre mezza un'altra alle sei e un'altra alle sette mi pare in tre ore e mezza ho fatto tre partenze peccato che le prime due le ho slamate anche se la seconda partenza era un bel pesce ma la terza è arrivata a guadino quindi ho fatto un po di carica e sono rimasto fiducioso per la seconda notte e infatti stamattina presto presto le sei e mezza sette insomma giù di lì è arrivata è arrivata un bel pesce e dopo 20 minuti di combattimento è partita anche a luca mi sembra che sia davvero una fascia oraria a meno in questo periodo qua dove il pesce mangia o comunque si avvicina magari un po di più tra virgolette comunque io l'ho presa a 100 metri quella di stamattina si non tralascierei appunto il discorso del periodo sicuramente una pesca a agosto non può essere come una pesca a maggio ci troviamo in un punto dove crescono tantissimi algai quindi non possiamo il pesce in frega piena si si vabbè adesso anche la frega appunto l'attività del pesce ma proprio riguardo a un fondale non possiamo paragonarli quindi ogni periodo appunto il suo stratagemma cerchiamo magari se abbiamo bisogno di info di trarre le giuste info per il periodo in cui siamo e sicuramente una pesca mirata una pesca studiata può dare sicuramente tanti risultati in più quindi non sottovalutiamo mai il periodo e spero a tutti che possiate trarre i migliori consigli insomma l'acqua è molto calda arrivi in città Volevo un attimo spiegare in velocità come sto improntando questi quattro giorni di pesca avevo già pensato bene dove lanciare o come posizionare le canne perché comunque qua al Ghost ci siamo già stati questa posta qua l'avevamo già vista quindi era in circa sapevamo già cosa trovarci davanti e chiedendo un po' in giro insomma il fondale in questa posta qui è un pelo più pulito rispetto ad altre c'è comunque dello sporco, c'è comunque un po' di fanghino, un po' di erbetta, di alghe quindi bisogna stare attenti, bisogna sempre comunque un attimo plambare ma all'incirca comunque sapevamo già, almeno io sapevo già un attimo come muovere appena arrivato in posto ho crispato le tre canne una a 20, una a 25 e una a 28 che sono 20 lunghezze, 71 metri 25 lunghezze, 90 metri, 28 lunghezze sono 101 metri appena arrivato in posta, ho clipato le canne e solo col piombo ho iniziato a lanciare per vedere se le distanze che avevo pensato insomma erano giuste che non ci fosse fango o alghe varie 20-25 lunghezze quindi fino a 90 metri, il fondale è buono, buono insomma non è durissimo ma comunque buono, pescabile assolutamente quando noi iniziamo a uscire già sui 100 in poi iniziamo a trovare più duro ma comunque non mi sono spaventato troppo perché appunto avevo tre canne su tre distanze quindi volevo passare la notte così e vedere insomma qualche risposta tre canne su tre distanze diverse, una sul duro quasi cementato l'altra un po' meno e l'altra ancora meno ancora quindi tre distanze diverse, tre fondali diversi, tre spot diversi e sicuramente ero quasi sicuro di avere delle risposte insomma entro il giorno dopo quindi niente, dopo aver visto che il fondale era pescabile e mi piaceva ho preparato le bombette, bombette di pellet, al mais circa 4 e 6 mm e dentro ho innescato un normalissimo nodo senza nodo, 9 rig 12-16 cm di trecciato con un analiner e un tubicino per tenere il cappello più stretto a lama ho innescato all'incirca una bilanciata del 12 su un'altra una bilanciata del 15 all'anas di mainline trattate con il go, go pine apple quella del 12 e go al miele quella del 15 l'ultimo go che è uscito in questa settimana qua e ho lanciato, ho lanciato, canne messe giù perfettamente e ho iniziato a spombare perché ci hanno detto che qua bisogna spombare un bel po' quindi ho iniziato a spombare subito ho contato una distanza in meno, quindi 3 metri in meno, 3 metri e mezzo in meno spot mix con mais, tiger, canapa, un po' di pellet e un po' di palline tutte espliciolate chiaramente ci ho messo qualche liquido, ci ho messo un liquido molto acido, over carbate, yellow fruit sto usando molto in questo periodo, olio di canapa e una spustatina di go dato che le carpe comunque erano a galla, secondo me fare una bella colonna può dare una marcia in più al nostro spot mix ma purtroppo tutt'oggi zero, zero assoluto, silenzio assoluto le carpe sono in frega, l'acqua bolla e saltano tantissimo quindi le carpe sono tanto a galla e secondo noi non interessa mangiare più di tanto però sono sicuro che stanotte può partire qualcosa le distanze giuste ci sono, le canne sono messe giù benissimo, sono appasturate ho appasturato stamattina, ho buttato 6-7 spawn per canna non serve che pastura anche prima di andare a letto, perché comunque sto pasturando con granaglie le granaglie durano tanto, sappiamo, 24-30 ore passa quindi sono sicuro che se non sono partite le canne magari qualche pesce è venuto a mangiare ma c'è ancora della pastura sotto quindi non voglio abbondare di più però il pesce che ho perso era davvero bello sembrava davvero un bel pesce intorno ai 20 kg gran peccato, però insomma quando sperimentiamo rig nuovi, tecniche nuove può succedere anche questo, quindi non serve insomma nervosirsi troppo facci troppe domande cambiamo subito righe mettiamoci sulla strada che conosciamo già righe che conosciamo, andiamo sul sicuro e con impegno sicuramente le soddisfazioni usciranno buongiorno ragazzi, ultimo giorno ho appena già notato, sono 5 e un quarto e un quarto buongiorno ragazzi buongiorno dall'ultimo giorno di pesca siamo nelle ultime fasi di questa mattinata e non si è mosso niente tranne una partenza a me stamattina qui nel sottoriva peccato che si è andata a intrigare qui nel canneto era la carpa piccola peccato adesso ci stiamo riprovando ieri ho fatto un cambio esca più tardi del previsto sono arrivato a fare cambio esca verso le 88 un quarto circa un po in ritardo contando che ho finito verso le nove e un quarto fare tutti e tre cambiesca pasturare ho ottenuto gli spot che avevo preso poi l'altro giorno impecchiato che non sia partito niente poi durante la notte ci abbiamo creduto tanto ci ho provato un po in tutti i modi mantenendo gli spot anche questa mattina però non ho visto niente si ci credevamo molto stanotte comunque le altre notti sono andati bene la prima notte abbiamo fatto tre partenze la seconda 5 6 partenze 7 partenze ne abbiamo visti di pesci di notte quindi stanotte insomma post è pasturato già da qualche giorno i pesci sono visti erano abbastanza sicuri di prendere anche qualcosa anche stanotte per qualcosa anche sostanzioso vabbè insomma niente scontato qua nella pesca ma l'acqua bolle sono tanti pesci a galla non sono non stanno sul fondo e si vede che di notte si avvicinano un po comunque vanno a mangiare sul fondo e abbiamo visto una cattura mi pare in mezzo al lago quindi ci ho provato anche io arrivare più lontano possibile e sono arrivato a 115 l'ho pasturata ma niente neanche quella invece che le altre due canne mi sono rimaste sui spot fidati dove avevano regalato e quindi fino a stamattina alle 11 10 non ho più toccato le canne che appunto ero fiducia che partisse almeno una per le 11 ho due bombette già pronte lì nella cassettina e quindi invece che portarmela a casa ho calato due canne una cento una 90 metri verso la porta 5 che dovrebbe troverci questa famosa strada un panettone ancora non si è capito bene cosa però penso che sia un po più in là 620 130 metri e niente senza postura che aveva buttato due bombette la in mezzo verso la porta 5 che ancora non c'avevo pescato o meno c'avevo pescato ma a 70 metri non a 100 speriamo ci venga a trovare si venga salutare ma che la cartetta l'ultimo vedere qualcosa l'ultimo pesce tra poco andremo via il pomeriggio adesso facciamo da mangiare intanto un po brutto vediamo si cambia qualcosa per gli ultimi minuti di pesca se non fosse così ci vediamo tra poco per i saluti ci siamo ci ragazzi sessione è terminata sessione è finita adesso sta piovendo sta iniziando a piovere abbiamo smontato il campo giusto giusto in tempo quindi vi salutiamo sotto la pioggia vi diamo appuntamento a un nuovo video con nuove carpe nuovi hotspot e nuove esche team fs non torna a casa mani vuote anzi taschi tiene fs sono best e ritmi fs ciao 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 ciao